È innegabile che qui c'è una dimensione di paese, di borgata, di comunità, si conoscono tutti, la dimensione sociale gira attorno agli stessi posti e la cosa molto importante è la memoria, ci sono ricordi di come era la borgata, me lo raccontano, me lo dicono, mi fanno immaginare come poteva essere prima la tonnara, cosa è successo quando negli anni 60-70 sono arrivate tutti questi camion con materiale di risulta e questo è sentito proprio in maniera molto forte, la nascita dei palazzacci dove abito tra l'altro, cosa ha significato perché pare che ci fosse un campo sportivo prima, tutto questo mi si racconta, quindi la memoria è forte, dove c'è memoria in un posto c'è comunità, questo ne sono sicura.